Non sta a me bene niente? Ma la visione si sa che pagano così? Si è pensato in confidenza, ha scritto anche che si è innamorato di una ragazzetta a Svizzera Sì, ma questa ragazzetta non è il tuo figlio No, ma gli hai promesso il motorino e la voleva Ha 14 anni per favore Ma su questo lo che palla è me che compro due calzate e tu li stai portando via la paternità Fidati, Diego Gardini non dice nemmeno cosa sia la paternità